the eight gli otto sono stati un gruppo di pittori americani che sposero insieme gli otto fu anche il nome di un gruppo di artisti progressisti cechi formatosi a praga nel 1907 e di un gruppo di pittori ungheresi che si ispirarono al post impressionismo fondato a budapest nel 1909 qui però faremo riferimento agli otto statunitensi non c'era grande unità stilistica tra i membri di questo gruppo ma predominava il tema della vita urbana contemporanea alcuni critici stili parlarono di stridenti dissonanze di otto orchestre diversamente accordate ma il pubblico la pensò diversamente gli otto componenti furono arthur b davis morris prendergast ernest lawson robert henry george lux william j gleckens john sloan ed everett sheen si unirono in gruppo quando l'academy rifiutò le opere di gleckens lux e sloan per l'esposizione del 1907 henry la personalità dominante del gruppo e membro della giuria accademica ritirò il suo lavoro per protesta mentre a davis fu chiesto di organizzare una mostra indipendente a new york che ebbe luogo nel febbraio del 1908 gli otto esposero insieme nel 1908 e questa fu l'unica occasione ma nel giro di un anno la mostra venne allestita in altre nove città oltre a new york dando così visibilità alle opere e alle idee di questi artisti il gruppo venne fondato negli stati uniti questi artisti furono uniti dall'opposizione alla politica conservatrice della national academy of design e dalla volontà di creare un legame diretto tra la pittura e la vita moderna la mostra del 1908 considerata una tappa importante dell'arte americana perché contribuì a preparare la strada all'armory show del 1913 prima grande mostra d'arte moderna negli stati uniti se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando